La Pasqua si avvicina e l'annata del 2020 è destinata a entrare nella storia con il sempre più plausibile annullamento delle processioni della settimana santa o del rinvio a settembre, come ha suggerito la Santa Sede e i Vescovi. Il clima di sconcerto e tensione si trasforma in solidarietà. Anche l'arci confraternita della Santissima Trinità ha consegnato ieri all'ospedale di Sulmona un ventilatore polmonare per il reparto di rianimazione, un segno tangibile di vicinanza della famiglia trinitaria agli operatori sanitari del locale Nosocomio, che restano in prima linea e stanno facendo i salti mortali per gestire l'emergenza. L'arci sodalizio trinitario, nella sobrietà del dono e della carità, ha voluto consegnare il dispositivo ai vertici dell'ospedale dopo averlo acquistato, fedele ai valori che segnano il ruolo delle confraternie nella Chiesa, prossimità e carità cristiana. Significativa anche la coincidenza della consegna che è avvenuta nella giornata di ieri, 25 marzo, festa dell'annunciazione perché all'edificazione degli originari ospedali dell'annunziata contribuirono proprio i trinitari. In dotazione al reparto di rianimazione arriva un altro ventilatore polmonare, dopo quello donato dal gruppo Pingue Conad e dagli imprenditori della zona che hanno raccolto circa 60.000 euro. La scorsa settimana anche i lauretani hanno annunciato l'imminente consegna del macchinario nello stesso spirito di cristiana carità. Diverse raccolte fondi sono poi in corso, da quella dell'associazione di Adema, quella del gruppo Ana di Sulmona che ha raccolto oltre 11.000 euro in sei giorni, il quale di Sulmona batte per l'ospedale.